Ragazzuole ragazzuole benvenuti tutti quanti in questo nuovissimo video Oggi vi porto un video davvero importante perché ragazzi come avete visto dal titolo della miniatura Ho giocato il torneo proprio di qualche giorno fa dove si vinceva il piccone dell'FNCS Raggiungendo la top 1200 in Europa Cosa che chiaramente io ho raggiunto insieme al mio domissimo duo mate E devo dire ragazzi che abbiamo giocato veramente bene e oggi vi andrò a fare vedere tre vittorie che abbiamo fatto nel torneo E appunto poi vi faccio vedere anche il piccone che abbiamo vinto che è veramente bellissimo Mi raccomando ragazzuole di cominciare con il video, un bel pollicione in su per supportarmi Iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto e vi ricordo che mi trovate live su Twitch tutti i giorni dalle ore 17 Trovate il link qui sotto in descrizione Ora però ragazzi direi di non perdereci in chiacca perché avete da godermi delle partite veramente stupende Io vi auguro una buona visione Ok devo prendere il ping un pochettino più alto perché così non va bene Vado io dal tuo se vuoi Sì sì meglio meglio Dammi il jetpack Capitan America ottimo Sto sparando qua lo split Ok Io ad armi sono messa proprio god E qua se vuoi c'è due bacche da fare e anche i mini Vedo uno vedo uno Due due Ok Attarò qua sopra Per vedere che sta bene Puoi sparare l'applico il jetpack appena i sei Tanti ho la OG per la sera Lascio l'applico il jetpack a quello dietro ci sono Io la faccio Arrivo Lo vedo quando vuoi Questa qua E ferma Fermo Fermo Morto Morto 32 doppio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Lo faccio Eh fatto Lo ho fatto All'altro ce l'ho io Ce l'ho già full E' tipo qua dietro Cerco di bloccare la pad Io faccio 61 Ho riuscito Sono riuscita 200 Nice Nice Gente qua Mi sa consola Mi sa consola Poco a sottima 30 Uno di vita Uno di vita A terra A terra Ok All'entro Eeeh Riflacer Ma Tensela Ora Dove veniva? Passi 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 Quasi caccato 90 Tipo Ah no Raffuto 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 Sono due Sono due Mi ha spiel Tu? Mi ha spiel Stai Stai passi passi Stai passi passi Stai Entrami Devo ricaricare tutto Allora Peace 20 white Se io vado dietro Ma non posso 24 Tengo il mio Io che ho sceglato Non lo faccio Mi viene da te Dobbiamo fare il vostro fight Che sennò Niente Guarda il mio Arrivo subito Sto venendo lui verso di me Hanno uno Ah no Cado uno Cado uno Zeleka C'è un altro team Che fa spazza lontano Sto salendo Zek sono uno V1 Vedo due No no Due v1 Forse Rompò da sotto Bianchi lati Un mio box 25 Una due È rimasta Preso È salita Caccato uno di vita Morto 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 Zek Nice Altro team È arrivato Altro team Altro team Sto guardo Faccio spi Abbiamo preso sopra Nento box Nento box Nento Morto 90 white Ok ok Sto salendo da qua dietro E questo è il mio wall Forse è il solo di prima No 56 in testa Lo spam Mi spi Morto Fanno fizz Fanno fizz Fanno fizz La mi sa che sono tipo Non si box Forse Sto mangiare Rimpisata 37 Doppio Crackato bianco Qua è ancora 25 Morto 100 Morto 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 Organizzare Bravissimo Let's fucking go Non lo fanno Solo Può essere Sì Può essere Sì Sì Speriamo Va beh 65 white No Bravissimo Sto arrivando Pensiamo anche a ruotare Sì sì lo vede Tutto sinistra proprio Sì l'ho visto Soltando il tetto Posso sparare quando vuoi? Sì fermo Vai Eh no Non ve lo pio 50 Crack 23 white White morto Nice Gente pariata Ok dietro Ok dietro Ok dietro Sì Non solo mi sa 30 Quello che ci sei morto subito My speed Oh mio dio C'è l'altro camperato C'è l'altro camperato Uno di vita Sto scendo anche Vai tranquillo Vai tranquillo Guardate tranquillo Era dentro la capanna Mamma mia Oh fai si pieni c'è tanto L'altro c'è a schifare Campe da dentro la montagna C'è dentro la capanna C'è l'altro Un cammino a fare mini Sì sì C'è uno dietro che ci guarda Attento Mi capisci anche gli arlo È uno È stra separato Però vedi questo qua Davanti Ok sì quello lì Carcato Una di vita Una di vita matto Nice Però che spammava S'ha schicata Ok c'è solo una duo Quelli sopra Quindi mi devo preoccuparci Quelli sopra Vado anche io 40 questo 75 la skin Quella scura Mi sono scarso 25 Eh 50 white 50 white Nice Sto sprando anche il solo 40 white Vuole riftare il solo Ok io sto presionando la 2 Tra poco lo kill Vabbè Morto morto Io ho fatto fare tipo Una cosa come 6 hardball Non sto scherzando Uno di qua Forse vuole salire Crackato 75 50 white Nice Lo guardo anche io Salme di che è morto 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 Allate giù Nice Lo più guardo Lo più guardo Vado a matt 110 Con te Sto guardando col pump in mano Muore il 6 quasi E di giù go white Morto Nice Nice Vengo da sin me Io provo a sparare la Lara troppo qua Provo tra Provo ora 130 Nice L'ho isolato l'altra Box 40 Morto Fenomeno Lampiamo quest'altro in 2 120 Adio Morto Buonissimo 60 1 40 l'altro Questa quello che lo so quando play da 34 Preso Centro Centro Fatto attento a quello Ha la stessa skin Centro anche a questo 40 white 40 white Non mancia Preso Box Morto No Ho il bug tuo Sento che spari l'infinito E nel cono guardalo Se apri lo killiamo Eh sì 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 Eccolo Crackato bianco 40 white 40 white Mi sa che era meglio che non apriva 10 10 L'hanno bombato L'hanno bombato sì L'hanno bombato sì Qua sono fuori safe Eccolo eccolo One shot a seconda Morto Andiamo, 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 andiamo. Mi riesco a forzarli in braccio. Sì, sì, sistemato il coso, sì. E ci sono. Preso. Bene, siedita. A me. Oh, buildata. Bene. Faccio un big, faccio un big, up, 4, up. Stendiamo il volo lì sopra. Sì. Altro loot, sì, 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 sì. L'acchi di quello che ho capito di finisci. Allora, attento al caglietta. Sì, li sento col jetpack, attento. Sì, box, box. Sì. Eccolo, davanti, davanti. Sì, sì. Vabbè. Andiamo, andiamo. Sì, sì, vai. C'è no, c'è no. Cerca di spottare lag. Io lo vuoto solo, ok? Ok. Apro. Va per andare. Uno vuole fare peli jetpack, attento. Attento. Ok. Io ho fatto una manta, questo qua che voleva farti play. Faccio uno che devo uscire, guarda, guarda, guarda. Ah, arriva, 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 arriva. Io ho fatto tipo un 95. Apro qua, vinta dietro l'altro, dietro l'altro. Sono scelto quello. C'è un solo su me, free kill. No, cado, no, cado. Cosa vuoi dire? Sbagliata. Ucciso. Ah dai, perfetto, perfetto. Ok. Ho 5, 3, 3. Hai hard one? 12. Ah, posso, posso. Ok. Ok. Ho preso una kill fa. Guarda, guarda, guarda. Bravo. L'hai scappato? È morto. Con una dita, con una dita. Ok, puoi uscire. Un medico se vuoi? Eh, sì, me lo devo fare. Ok, ok. Tieni. Sto tarpando. Ho lasciato il big, eh? Ho lasciato il big. Sto tarpando. Ho lasciato il big. Non ho problemi. Hai shielded. Ho fatto il pink ancora? Sì, vai, vai, è fatto, fatto, fatto. Ho tanto qua? Mi vuole in legno? Io ho 0 hard, ho 200 di legno e basta. Tieni tutto il mattone. 200 di mattone ti ho dato. Oh. Sì. L'ag è un po' sceso per le kill. Devo curare io. Ok, vai, vai. Ci penso, ci penso, ci penso. L'ag in legno, leg in legno. Ok, eh, forse servirebbe, stai. Non lo so, ma sì, eh. Oh, ho potuto saltare di metà legno, tranquillo. Niente di te. Morto, morto. Oh, c'è un mince. Nice. Un 1 is here, però. Ti ho sciatto da fare un po'. 200-300 di legno solo. Vado di qua? Devo fare un kit. Eh, niente, mi fa. Ok, catch it. Faccio un kit. Riesci ad andare? Devo andare da dietro, mi sa. Ah, fuck. Sì, sì, da fuori, da fuori. 2v2. Oh, like, o like, o like, o like, o like. Nice, sto salendo. Sto facendo il kit intanto. Se rimani sopra abbiamo vinto. Non posso più cracare. Sto salendo col jetpack. Sono con te, sono con te. Devo fare kit, non ho più mazza. Sono qua. Ok, vai. Più build, più build. Zero build. Quanti kit hai? Zero, zero, zero. Uno è morto? Va bene. Sono due, uno. Dovremmo aver vinto. Cycle pump per il jetpack, se state. Ancora due build e basta. Ok. In caso... In caso... Ok, ok, ok. Mette un pavimento qua. Usa il jetpack. Vai tu, vai tu. Let's fucking go. Nice. Attento che siamo veramente chiusi. via. Per via da me. 30 white. 830. 60. Carcato! No, cado, no, cado, no, cado. Qua è andare? Nice, 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 nice. Vado, 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 vado. Me lo faccio arrestare. Si, qua, qua, qua. Preso. Morto. Let's go. Prendi il jetpack. Qua. Ho il metodione dello spotter, vedi eh? Sì, questi vieni. Buono, buono, buono. Usa di massa. Sì, sì. Nice. Posso aprire qua? 30. Carcato vai, neanche uno di vita, uno di vita. Oh mio Dio, non ci credo. Un hit proprio. No, dov'è cercare. Morto, morto, pesa la kill, pesa la kill, pesa la kill. Morto di sorge. Eh non, sarai che l'hanno shappati, l'hanno shappati eh? Ci guardano, ci guardano. In caso possiamo andare ancora più su. Cura di, cura di, cura di. Cura di una kill. Perché è morto di, ho fatto una hit e è morto di 6. Guardiamo questi, guarda. Sono saltati. 50. Lavoro uno di vita. Sono divisi di brutto, sono divisi. Giusto, Ed, attenta se ci ci ciòppano sarà. Ok. Perché di sparare? Spara e basta. Carcato, white. Finito, hai hardware. Carcato? Hai hardware? Eh sì sì, 4. Aspetta che forse prendo la kill? Sì, avventato la build allora. Sì sì. Tieni, spot. Io, 80 colpi, arra. Eh, 100, tieni. Ho sbagliato. Noi ci sono fatti zona? Ci ho ancepatato, ci ho ancepatato, ci ho ancepatato. Ok, presa la kill, presa la kill. Ok, ci ho ancepatato. Bravo, Li, Li. White, white, white. Sargo. Pesi 2 kill, Pesi 2 kill, Pesi 2 kill. Sto salendo questo Morto 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 Mi ha prenduto questi mazzi Lascio i fiz Ho tanti mazzi 300 arm sali Ok Mi faccio due pesce Dammi la medaglia per mi riesci Tieni Io ho 4 build e basta Tieni Dietro dietro poi sei Morto È morto è morto è morto Parsella è una parsella è una parsella è una Dove trovo Craccato Sono due soli sono due soli Sì 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 In casa vado a frangare io Fini È l'ultimo è l'ultimo Faccio tutte le slash lo fai chiamo Dammi il meta Tieni Mi metto tutti i double A Trenta Craccato Craccato Nice 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 Bravissimo Tomma p che abbiamo anche il game a stack Quanti punti abbiamo? 3 5 7 Siamo top 800 Ok è finito ora Mancherà qualche secondo 30 secondi Secondo me ci abbiamo fatto Sì dai 400 posizioni adesso mi sembra Cioè i game dovrebbero essere finiti Tra un'ora Mezz'ora Ah no mi è arrivato sì Ce l'abbiamo Veramente Ti giuro mi ha appena detto Oh l'ho appena detto Te lo giuro l'ho appena No è vero anche me Te lo giuro L'ho appena detto e ce l'hanno appena dato Let's fucking go raga We made it GG in chat raga abbiamo giocato benissimo Cristo di la madonna Ed eccoci qua ragazzi con il nostro bellissimo piccone dell'FNCS in tutto il suo splendore Ma quanto è bello raga Cioè secondo me è tipo troppo troppo figo Come avete visto siamo rientrati nella top 1200 in Europa Abbiamo fatto delle partite veramente spettacolari Che peraltro come avete visto ho giocato con un nuovo duo E il torneo è andato veramente veramente benissimo Abbiamo totalizzato 387 punti E sono veramente super soddisfatta Che peraltro questo piccone uscirà sicuramente nello shop penso nei giorni successivi Però averlo preso dal torneo è sicuramente un tipo di soddisfazione completamente diversa Eccoci anche ragazzi in partita nella mia mappa 1v1 Cioè guardate raga quanto è bello È stra sottile Fa un sound stra pulito Stra bello veramente Cioè un piccone ragazzi Probabilmente uno dei più belli letteralmente a mani basse Sarà soddisfatta e sarà contenta Quindi ragazzoni mi raccomando se questo video vi è piaciuto Un bel pollice in su Iscrivetevi al canale se lo avete ancora fatto E vi ricordo inoltre che se volete vedere altri momenti come questi Mi trovate live su Twitch tutti i giorni dalle ore 17 Trovate il link qui sotto in descrizione Ora però ragazzi non ci dobbiamo salutare Ma non vi preoccupate perché chiaramente ci rivecchiamo in un prossimo video Dalla vostra creato mista è tutto Bella a tutti ragazzi Grazie a tutti